Arriverà a breve nell'aula del Consiglio regionale un provvedimento atteso da tempo da migliaia di cittadini e famiglie. Stiamo parlando dell'annosa questione della revisione Caldaie, diventata una tagliola per migliaia di persone trafitte come San Sebastiano dalle frecce acuminate di multe e sanzioni. È stata approvata all'unanimità dalla seconda commissione consigliare una proposta di legge della Giunta regionale con la quale vengono drasticamente ridotte le sanzioni in essere, dagli originari 1.500 euro ai 200 di minima e 600 di sanzione massima previsti dalla nuova normativa, che tra le altre cose prevederà una proroga dei termini di revisione attualmente previsti in scadenza al 31 gennaio e che secondo le previsioni slitteranno al 31 marzo. La vicenda si trascina da tempo e pendono sul tema oltre 5.000 ricorsi di cittadini colpiti da quello che viene comunemente avvertito come l'ennesimo giro di vite sui contribuenti. Soddisfazione sugli esiti raggiunti è stata espressa dai consiglieri regionali Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle e Aida Romagnuolo di Fratelli d'Italia. Insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, dice Nola, proporrò un'ulteriore modifica alla proposta di legge. A nostro avviso, conclude il consigliere Nola, gli accertamenti dovrebbero riguardare solo l'ultimo anno solare, evitando così sanzioni cumulate. Questa era e resta una battaglia di buonsenso alla quale ho sempre creduto invece il commento di Aida Romagnuolo ed è un risultato raggiunto non solo dalla sottoscritta ma da tutti i cittadini molisani.